a scuola da una banda di bulli studente di 16 anni dell'itis fermi finisce all'ospedale gli aggressori non erano dell'istituto indaga la polizia auto si schianta contro un bale accaduto a massa macinaia sulla via di sottomonte una vettura guidata da un anziano ha centrato un'auto parcheggiata a margine della carreggiata se dice no all'appello di betti sinistra ecologia e libertà non sosterrà il sindaco di viareggio l'opposizione conta di avere numeri per far decadere il consiglio comunale pagliuca prepara qualche cambio bianchi e degeri le possibili novità nella lucchese che sabato alle 14 e trento ospiterà il forte ascoli seguito ad almeno 300 tifosi il tecnico rosso nero prova a rinfrescare una squadra reduce da tre sconfitte consecutive il dottore vola con il sidecar i garfagnini gianluca barbi e francesco doratori hanno conquistato il titolo tricolore sidecar di velocità in salita vincendo 4 delle 5 prove in programma buon terzo posto anche in pista sul circuito di varano a parma a tutti voi la più cordiale buonasera ben ritrovati per questa edizione del tigino ed anni ormai si parla di bullismo un grave episodio in tal senso si è verificato purtroppo anche a lucca vediamo tutti i particolari nel servizio questa mattina poco dopo le 11 la squadra volante è intervenuta presso l'istituto scolastico iti fermi dove uno studente aveva subito un'aggressione ad opera di alcuni giovani estranei alla scuola il ragazzo aggredito a causa delle ferite riportate è stato accompagnato con un'ambulanza in ospedale i poliziotti hanno ascoltato numerosi testimoni che hanno riferito di aver visto entrare nell'atrio della scuola alcuni ragazzi sicuramente strani all'istituto che hanno prelevato uno studente strattonandolo e spingendolo all'esterno della scuola la giovane vittima nell'opporre resistenza è caduto a terra riportando una lesione al braccio secondo alcune testimonianze alla base dell'aggressione ci sarebbe un litigio risalente alla scorsa estate il plesso scolastico è dotato di un sistema di videosorveglianza che ha immortalato tutte le fasi dell'aggressione le cui immagini potrebbero essere molto utili per identificare gli aggressori sconosciuti a testimoni la squadra mobile di lucca recuperato negli ultimi giorni tre smartphone che erano stati rubati ai loro legittimi proprietari per le persone ritrovate in possesso degli apparecchi oltre al sequestro dell'apparecchio è scattata anche la denuncia per ricettazione dall'inizio dell'anno sono 27 cellulari recuperati per un valore complessivo che si aggira intorno ai 20 mila euro ed ora ci spostiamo a massa macinaia dove c'è stato un incidente davvero spettacolare anche per anche se per fortuna compare non con gravi conseguenze questo è il momento nel quale gli operatori del 118 vigili del fuoco estraggono il conducente dell'auto protagonista dell'incidente a massa macinaia in via di sottomonte all'altezza del bar italia un'anziana al volante di una seat proveniente da pontedera ha urtato un'auto parcheggiata a margine della carreggiata davanti alle fioriere del bar la seat si è praticamente infilata sotto l'altra vettura che a sua volta è andata a schiantarsi contro lo spigolo esterno del bar fortunatamente l'auto non è entrata all'interno del locale dove in quel momento si trovavano il titolare alcuni clienti compreso il proprietario dell'auto andata a finire contro il muro l'anziano è stato poi portato all'ospedale di lucca la dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia municipale sembra probabile che l'anziano abbia avuto un malore mentre si trovava alla guida l'uomo infatti non ha completato la semicurva a sinistra ed ha proseguito la sua corsa verso destra centrando l'auto parcheggiata davanti al bar sull'asfalto non c'è traccia di frenata ci sono state proteste perché l'auto medica è arrivata dopo circa mezz'ora ma si trattava dell'unico mezzo in servizio in lucchesia e quando è stata allertata si trovava a matraia ancora la cronaca in seguimento a piedi per le vie del centro di viareggio dove uno spacciatore alla vista della polizia ha tentato di darsi alla fuga in via vespucci però gli agenti della squadra volante sono riusciti a bloccarlo l'uomo è un trentenne marocchino denunciato più volte per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel corso della perquisizione gli è stato trovato addosso un involucro contenente cocaina e 150 euro la pagina politica la crisi a viareggio se l'ha annunciato che non sosterrà il sindaco betti mentre il sindaco betti era in diretta su noi tv a viareggio l'assemblea di sel sinistra ecologia e libertà confermava di non voler rientrare in maggioranza lasciando così pochissime chance di rimanere in sella al sindaco di missionario il partito ha infatti giudicato insoddisfacente il piano di rilancio proposto da betti per evitare il commissariamento completo del comune il capogruppo in consiglio comunale geronimo madrigali ha annunciato che i due consiglieri di sel potrebbero dimettersi entro sabato a loro potrebbero aggiungersi i consiglieri del resto dell'opposizione e i due dissidenti del pd zappelli e mei con 13 consiglieri dimissionari il consiglio comunale decadrebbe e arriverebbe il commissario a diretta sindaco intanto betti ha risposto alle domande dei cittadini su vari argomenti tra cui quello del passaggio delle scuole dell'infanzia dal comune allo stato a causa del dissesto economico il passaggio sarà gestito con la massima cura detto betti ma tramite sms sono arrivati i commenti preoccupati delle insegnanti precarie che chiedono almeno di essere assorbite nelle cooperative che già lavorano nelle scuole quello della scuola sembra il fronte più caldo in questo momento a viareggio per sabato prossimo è infatti previsto un presidio per i diritti dei bambini e delle famiglie davanti al municipio promosso dal gruppo viareggio unita per il diritto all'istruzione su questa vicenda c'è un intervento del senatore andrea marcucci mi auguro che sel ci ripensi dice marcucci ci sono infatti tutte le condizioni per assicurare a viareggio un'amministrazione in netta discontinuità con il passato il partito di vendola prosegue il senatore ha partecipato alle primarie del centro-sinistra il diniego alle proposte del sindaco betti è francamente incomprensibile se sel dovesse confermarlo conclude marcucci si assumerebbe una responsabilità pesantissima verso la città non facilmente superabile anche nel futuro è sempre merita la crisi del comune di viareggio è forte la preoccupazione delle associazioni sportive riguarda la sciagurata ipotesi si legge in una nota di commissariamento del comune le associazioni invitano i partiti politici a governare la città quindi a risolvere anche i problemi in questo caso dello sport a pagare i debiti nei confronti delle associazioni sportive perché un commissariamento della città sarebbe un'inutile perdita di tempo quindi conclude la nota c'è l'invito al sindaco ai partiti politici ad un atto di massima responsabilità poi sotto c'è la firma in pratica la di tutte le società sportive della città di viareggio cambiamo argomento e parliamo dei comics per i quali ormai è iniziato il conto alla rovescia continua la marcia di avvicinamento a lucca comics games che parte il 30 ottobre al teatro del giglio sono state presentate le aree comics music della manifestazione la scelta del giglio non è stata casuale perché il teatro dalla la prossima edizione tornerà ad ospitare momenti importanti dei comics compresa la cerimonia di premiazione fra le grandi novità di quest'anno l'inizio della realizzazione di una via del fumetto con le impronte delle mani dei più grandi disegnatori si partirà con silver disegnatore italiano che quest'anno festeggia i 40 anni di lupo alberto e che a lucca lascerà le sue impronte su una mattonella di cemento tra l'altro sarà proprio dedicata a silver una delle tradizionali mostre a fumetto ospitate a palazzo ducale a partire da sabato 18 ottobre ben 500 gli eventi in programma dedicati ai fumetti nella quattro giorni dei comics tra le varie iniziative il direttore renato genovese ne vuole ricordare soprattutto uno un evento molto importante di quest'anno che si aggiunge alle tante mostre e agli eventi agli incontri che ci saranno dal 30 ottobre al 2 di novembre c'è un qualcosa che mi piace segnalare perché un'operazione nella quale noi di Lucca Comics & Games abbiamo creduto molto e cioè questa diciamo collaborazione con Unicef che ovviamente per finanziare le proprie attività di solidarietà vende normalmente le pigotte le bambole da loro confezionate quest'anno siamo riusciti a trovare un grande disegnatore come l'autore di Ratman cioè Leo Ortolani che ha realizzato la rat pigotta prima ancora che cominci tutto già va a ruba per quanto riguarda la musica anche quest'anno sarà allestito sul baluardo San Paolino il palco di music e cosplay quest'anno ci sarà il meglio della scena del Japan Rock e Pop con DJ set e artisti anche da Cina e Corea tra i concerti più attesi la finale del Cartoon Music Contest giovedì 30 alle 17.15 gli Oliver Onions sabato 1 novembre alle 19.10 e i Cavalieri di Clara domenica 2 novembre alle 19.00 i lavori al ponte girante a Via Reggio di cui ci siamo occupati anche in queste ultime settimane il Comune ha annunciato che per consentire i lavori a partire dalla prossima settimana fino al 17 novembre sarà interdetta la circolazione su Via della Foce all'altezza di Piazza Manzoni ci spostiamo in Garfagnana esattamente a Castiglione Garfagnana per la fiera di ottobre atmosfere autunnali a Castiglione di Garfagnana per la fiera d'ottobre un'intera giornata dedicata alle eccellenze del territorio in mattinata mostra zootecnica con attenzione particolare ai bovini esposti anche alcuni capi della recuperata razza bovina garfagnina abbiamo sia razze bovine da carne come la garfagnina che è una razza rustica una razza apposta ai nostri territori anche le caratteristiche fisiche sono quelle adatte ai terreni sconnessi del nostro territorio allora per le razze da latte abbiamo qualche esemplare di frisona per un'alpina e per il credo a macello qualche esemplare di limousine in esposizione e in vendita i prodotti tradizionali di questa stagione il meglio che la terra di Garfagnana può offrire d'autunno le castagne, i funghi e i tartufi dai prezzi esorbitanti questo è valutato 285 euro c'è stata la possibilità di degustare molti di questi prodotti tipici e la giornata è stata accompagnata dalla musica degli Aristodemos c'è stata anche l'inaugurazione del restaurato torrione di ingresso al paese che nel passato era la torre di controllo del ponte levatoio uno spazio che potrà essere utilizzato per mostre e altre iniziative inoltre è stato riattivato l'orologio che per anni ha scandito le ore con il suono della campana sì, è un piccolo segnale della nuova amministrazione i cittadini ce l'hanno chiesto di poter ripristinare l'orologio il cuore del paese che per qualche anno non ha suonato ci siamo riusciti, merito a tutti, siamo contenti, i cittadini sono contenti stamattina sono andate le ore 12 e così continuerà, speriamo per sempre torniamo nel capoluogo, Humor Lucca, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta a scuola di Satira, prende il via la prossima settimana Humor Lucca il corso di formazione ideato da Alessandro Sesti è organizzato dal liceo artistico e musicale Passaglia con il sostegno della fondazione Banca del Monte di Lucca ma perché un corso di Satira nella nostra città? ce lo ha spiegato lo stesso Alessandro Sesti, geniale vignettista sulle pagine della Nazione io personalmente sono 30 anni che faccio le vignette a Lucca di Satira politica, di casa naturale e dietro a me ho notato che non c'è nessuno quindi ho ritenuto che ci fosse uno spazio per poter promuovere l'attività della Satira a Lucca ci sono tantissime scuole di fumetto in Italia ma non ce n'è neanche una sulla Satira e quindi ho ritenuto appunto che ci fosse la possibilità e lo spazio per farlo ho voluto farlo, ci sono riuscito, ci siamo riusciti perché siamo una bella squadra che non è una scuola ma è un corso di informazione, di formazione sulla Satira è fatta di molti moduli quindi ci saranno tante informazioni su tante discipline però che convergono tutte allo sviluppo della capacità di sintesi che è quella della vignetta finale il corso Humor Lucca vanta come presidente del comitato scientifico niente meno che Emilio Giannelli famoso vignettista del Corriere della Sera il corso di 120 ore prenderà il via lunedì 20 ottobre nella sede del liceo artistico di Via Fillungo e fino a quel giorno c'è ancora la possibilità di iscriversi chiudiamo con due appuntamenti, il primo ci riguarda in prima persona perché domani sera alle ore 21 torna il consueto appuntamento settimanale con il TG Noi, si parlerà di Assi Viari tra gli ospiti vi anticipo il sindaco di Capannori Luca Menesini e il presidente della provincia Stefano Baccelli ed ancora prima di chiudere vi annuncio che dal 17 al 19 di ottobre nelle sale sopra il teatro di Ponte Ammoriano sarà visitabile la mostra di pittura Espressioni di emozioni colorate promossa dal comitato paesano di Aquilea e con questo è tutto per quanto concerne la prima parte del TG Noi adesso ci concediamo una breve pausa pubblicitaria ma torniamo subito dopo con le notizie sportive grazie a tutti